Se sta bene è lui. Ah, sono due contro due, giusto? Adesso la mia mappa è bellissima. No, la mia è ok. Mi ha detto eccezionale. Per l'altro ho sbagliato, vado. Ho sbagliato un po' a... Vabbè. Ok, io vado, eh. Attacca? Sì, sì. Ma già le hai fatte, Claire? Ma cazzo le hai fatte? Le ho fatte quattro. Ma tu ce la metti qualcuna pietra? No, all'inizio era. No, no, ma che non spreco. Non spreco e basta. Il legno quanti ce li mette all'inizio? Fammi un po' capire. Nessuno. Nessuno manca il legno? Deve avere 18 persone al cibo nel tempo più breve possibile. 18 persone al cibo. Esatto, tante. Va bene. C'è un kill, eh? Chi attacchi tu? Kill e due? Gurav. È più forte, vero? Non lo so. Arrivano, ti manco a dare una new force. Ok. Vai. Ma chi è il blu? Ah, l'osservatore. L'osservatore sta orientando al cibo. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo. Vabbè, quello che lo sturiamo dai, c'è una torre. C'è ancora il snuffer. Profi con l'osservatore. Warter. Poi di solito Warter è un professionista, quindi insomma... Si renderà conto che ci sta orientata, eh? Che farà il cane? Ok, adesso stavo... Eh, infatti ha droppato. Ascolta, se torni un attimo indietro... Perché sto lag? No, 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 perché... No, però sto lag è domicidiale, no, no. Mi ha fatto perdere il momento, mi ha fatto perdere. Eh, ce credo. Non le sprecavo. Eh, sì, ma di questo... Non c'è la caccia, io. Qui non ce l'hai. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Infatti vado subito a cuore. Se no, sono troppo... No, sono troppo... Con queste cazzo le... E questo è Yucon 4 le potenze tardi. Qui ci fatto caso, no? Cioè, Yucon... Eh, beh, ma è normale. Se all'inizio... Non te puoi fa sopraffare, da... Se quell'altro ce ne andò più di te... Perché non ha potenziato, è un casino, capito? Veramente tardi le potenze. Ah, il Guro avevamo... Che tonto. Vabbè, me l'abbassato. Senti, io ce l'ho 8 clave. Quando vuoi, andiamo. Vai, vai. Io ce l'ho più. Attaccavo sempre Guro, vado attaccare più forte. C'è quei punti dell'altro. Vado attaccare a mezzo. Poi se ce l'ha il cibo di vedere. Ah, non ce l'ho messo. Ok, 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 dai, sturiamo. Dai, dai. Porca, trovi che li ha persi tutte le mazze. Vado a vero? Sì, che io ho ammazzato 4-5 cittadini, ma me l'ha fatta pagare. Ah, vai, io ho ammazzato moltissimo. Li lascio là a morire le mazze, se non manco l'arcavo. Tanto, anzi, fio l'arcavo e la metto qua dentro. Perfetto. Dai, 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 dai. C'ho proprio gente al cibo, no? Dio bom. Ah, è andata la seconda, forse. Tocca andassi ora a quello della seconda, allora. Eh sì, va bene, to' cura, volevo ammazzicciare. C'è, forse. No? Sì, 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 andiamo subito con la seconda, prima che fa i lancieri. Perché dopo siamo abbastanza nella merda. Ah sì, se comincio a fa... sto stronzo, cominci a fa... Nicola si è finita. Io sto andando, eh? Sto andando anch'io, eh? Andando in secondo, fa due casette qua. Vai. Cazzo, l'ho sottoluto da un bot, eh? Mi sarei spesso... Ah, ok, 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 va. Io ti attacco la dietro, eh? Vabbè, ti attacco la... Mmh. Tu hai proprio toglia là, che ti ritrovi, ti ritrovi, ti ritrovi, ti ritrovi, ti ritrovi. Cazzo, me ne ritrovi a te tre. Annacce. Vediamo un po' se trovo qualcos'altro. Ok, c'è dei cittadini qua. Ma questo non è forte, però, eh? Posse però i search, se non riesco a non sessare di più. Uè, guarda quanta roba c'è, quanta gente c'è. Vabbè, già, dai, dai, posto. Questa è domata. E infatti, forse so che abbi, tiragli giù il porto. Perché non c'è più cittadini, questo era. Veramente? Vabbè, stai tutti. Bomber. C'ha un alloro, vabbè, c'è un cittadino, ma non c'è fare tutte le masse. Vai a te, io li tiro giù il porto, vai a te giù il porto. Ok. Allora andiamo da Gurav. Sì, qua si... Devo, sicuramente, se c'è un po' più di pietre qui, me la piovo molto meglio, questa zona. Poi tutti a legno. Gurav ha popolato, è mezza la merda. Che cosa non fa, no? C'ho un po' di clavette io. Anche lui. Aspetta, gliele massacro. No, vabbè, ha perso proprio. Ok. Penso che sta partita ha vinto. Ah, senti, Thorsten, perché I love, I love cazzo, c'ha ancora sto cazzo di porto, vabbè. Potenziamo le clave un'altra volta, andiamo a tirare giù il porto. Lo cazzo ce l'ha, lui, i cittadini. Non c'è più, eh? Ma chi è, Gurav? Eh. Oh. Clubs coming for you. Penso che parlava per lui. La parlava per il nera clinch, adesso non so di fesso. Adesso dai, tiriamo giusto il porto, le merda, perché. Eh, la priorità, questo momento. Oh. 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 Ok, io posso far il tempio. In realtà, ancora non posso farlo. Però questo, questo, in compensa, non c'è più il porto. Ah, dai, cazzo, non ho visto. Cazzo, ha fatto la nave, bene, 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 bene. Guardi, porta via l'unità sopra, sennò te... Te vesturo. Ah, va bene. Ma la patinata popola tutta. Ah, questo c'è solo un po' di pietro, dai, sti cazzo. Ho aperto tutti, ma questo non c'è più il cittadino. Vai. Eh, è arrivato Gurav. È arrivato Gurav. Sì, a te. Ce la fai difendere perché sono messo a me. Sì, sì, ce la può, ce la fa. Va bene. Ah, senti, facciamo il... Lo non ce l'hanno, il tempio, ho visto. Se riesco a fare... Se c'è un profeta. Non ce la faccio ancora. Va bene. Io perché non ce l'ho il tempio, se non l'ho fatto. Mandami duecento del... Se hai duecento venti del legno. Non ce l'ho, tre mando un po' meno. No, quello che c'hai. Che ha il mando una deposita apposta. Apposta, vai. Ne faccio il tempio e forse mi devo. Che sta succedendo qui in mezzo? Ah, Gurav, però, la stura ammessa. Però è andata male. Mmm, abbastanza. Perché come forno si accede massimamente grosso, che è morto. Eh, però, ancora ce l'hai i cittadini, sto Gurav, eh? Tu vuoi il profeta? Poi andate qua. Tu hai già fatto il profeta, per caso? Eh, l'ho fatto. Cioè, se l'ho fatto, sì, l'ho fatta adesso. Non lo stacca di caso. Appena arriva a 30 lo mando avanti. Siete, attacciamo a Gurav, sono belle fragili. Come, GG? È un bravo. Attaccavo. Non c'è qui manco l'esercito. Allora, io ho resignato. Senti, quello non c'è manco più, assicuriamoci che non c'è più il port. Il porto è finito. Allora... Allora... cazzo hai toni forti queste le toni ti ragiono anche il cibore proviamo a tagliare giù una per una posso anche andare la seconda ah tanto c'è il terremoto aspetta tanto c'è il terremoto quando c'è il terremoto ando il tempo in cielo 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 aspettamo un secondo si va bene c'ho il terremoto al 34 avvicino avvicino un po' e' che non c'hanno ancora le cerche c'è un cazzo abbiamo dovuto essere dei gioitori a finire se ancora c'ho un pochino però devo fare qualcosa e faccio un'altra profeta? nooo guarda faccio adesso io per sicurezza ma non deve servire niente vabbè arrivare vai ando avanti facciamo l'esercito come esca e' un pochino e' un po' 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 c'è ancora una tutta intera le torre vabbè frega non c'era un po' e' 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 un po' questo è un po' dove andai nuova la gg vostra tanto non si arrende eh vabbè siamo giù a correre siamo giù ammassati colpo quanto so dure ste torri vabbè lui ci aiuta i torri dimmi dimmi adesso arriva guardate c'è il profeta carico eh vai vai guardate c'è il profeta carico oh ma chi è che sta arrivando viene giù vabbè chi è il maestro? oh io ho fatto vabbè dai pensiamo a una battaglia fino a vettere così le missioni non l'ho mai fatta riscaldamento quanto è stato facile? ma cazzo c'è un compito abbastanza caro però dai si è andato bene di tutto quanto di economia vabbè a parte così facile giù eh vabbè come rispetto a te timeline vabbè cibo vedi lo stesso più o meno eh guarda l'armi io ho stato meno addosso tu hai fatto molto più pietra vabbè perché mi sono spaz tanto quando era così cibo vabbè arriva oh mille casi oggi mille casi siamo ritornati qui sta dove mi alleno? siamo 7 e mezzo sto benino mi alleno se no no stamattina il carcaffiato al 10-50 è stato duro aspetta che tra un po' arriva Fiden eh vediamo un attimo se rientra che caso mai o sta lui? ci fa un pre-ranked che bella che bella che bella dei prossimi amico dei team dei super team carino carino più bene comunque frego quanto mi sta piaciendo questa incredibilità cioè io non capisco perché la censura l'ha massacrata è già veramente fatto proprio carino eh perché tu devi ancora giocare a Dark Souls dopo ti ricrevi in tutto quanto vabbè se giochi diversi non si possono manco paragonare come no? certo che si possono paragonare no vabbè se giochi diversi cioè che da me piace quella fedeltà storica nei personaggi come gli eventi sono stati rivisti in una chiave romanzata Dark Souls penso sia diverso è più un'esperienza tipo extra sensoriale però sì no la questione è anche del il come si dice i metodi di combattimento sono carini cioè è veramente fatto bene è impareggiabile proprio e 1071 è contagiabile scusatemi il cazzarietto quello è il combat system quello viene chiamato il combat system eh beh mamma mia quello si crede è un po' da rivedere è figa la parte stealth c'è il parkour quello è tanto fatto un sacco bene però il resto combat system allora queste uniti è fatto bene perché hanno fatto che tu non ti puoi sparare quando stai colpendo quindi se c'è tanti nemici ti sparano ti massacrano in pochi secondi è giusto così ma una volta era veramente ridicolore e quindi che famo Giordano? e niente ho stato io ho stato io perchè Fido non si vede fatti dai numeri telefono su ma loro secondo me si trovano su su discord su stachat da gamer discord scusa che c'è quella di twitch c'è la chat di twitch discord è la chat che si usa tanto tra i gamer ma anche tra i programmatori che c'è fattura niente è una chat testuale però ogni tu fai si creano dei server che so tipo dei gruppi dove all'interno ci sono varie stanze che so dei divisi in sotto argomenti che permette di ordinare le cose tipo microsoft teams niente di diverso però forse è più vecchio rispetto a microsoft teams perchè metà teams si è ispirato a discord vedrai sai facciamo due contro due dai ma no mi sono scatta un botto al computer perchè però le ventole non sparano eh già perchè? eh già non mi sparano le ventole però questo non lo capisco metti team 1 non mi sparano ste cazzo di ventole forse è la combinazione energetica che gli hai messo tanto ti che la raffreddamento deve essere passivo cance aspetta ok aspetta ora sono andato il content center balance no stand for battery e performance aspetta un attimo c'è 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 gpu al 4% quando hai per ieri la ram è al 75% è tutta vuota dpi io ho messo auto posso anche mettere cooler boost e ora mi spara al massimo ecco però dopo una cooler boost sta sempre al massimo le sento anch'io lo lascio un pochino in cooler boost e poi dopo lo rimetto quando sta per cominciare la partita quando siete pronti siamo pronti allora rientro lo metto auto apposta il massimo a posto apposta lo osserva wow vuole impanare scherzo vabbè che ci osserva che è cambiato ho messo easy pop è un po' forte pabell oh adesso si che l'aria scappa fresca oh mo' si fridda pabell è sempre rossa sto non sta con noi ma starà con gli altri perché li conosce meglio dai cittadini team up as you vetti cittadini però è un po' limite di unità dai si è sempre poco con 6 no no per un prevo benissimo forse famo visto che siamo 6 famo 2000 massimo dai capita mai che il continentale qualcuno vabbè fai cittadini ma non è cosa non si fredda allora jordan fai le mie partite di ieri come sono andate con chi ha giocato ah sorry can play pop ops please a posto che bello jordan è stato leclerc si è comprato un yacht e l'ha chiamato monza quante voglio bene leclerc come mai vi piace così tanto sto leclerc ma io lo amo ma che è buono e anche francese no è monegasco poi parla italiano perfetto a parte che prima l'ha fidanzato un'italiana quindi mi cazzo adesso mi è stato una puttana una puttana monegasca anche lì che se che non trovo la seconda la seconda refer mappa tranquilla il territorio è abbastanza un po' troppo ampio travecce difficoltà infatti io andiamo un po' che cazzo mi manca allora tu va subito tu vai al cibo a cuore anzi anzi se no ci va qua qui provo a popola subito il centro cittadino giordato io vedo quanto ci quanto convenga io vedo ho visto qualche prole fa chi è sto verde dove vai jeffred jeffred sta a correre come lei pensa di wall and down forte sta a stuporare non so c'è un cittadino che sta a correre non capisco come fanno in quel maveloce i love big mac come sa che li giappa anche stavolta ok ok la giuda ci fa ah ma tu ce lo stai stuporando eh oh è vero invece i cittadini in giro la persi che tonto ah la persi proprio eh sono i cittadini in verde c'è lì qui vabbè 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 attaccato ma vanno come le bestie corrono come eh le avrà upati al massimo vabbè a tutti i cittadini ah no non tutti cazzo l'italità non è eccezionale c'è l'italità c'ho le maniere di pietra ma di ferro molto avanti vediamo un po' adesso ho stato quello di merda ok l'ho trovato ah ma c'è non c'è la chiave potenziali nooo le vedo ando lentissime sicuramente io sono in gioco a scappare più rapidamente possibile tu ce l'hai tu ce l'hai il cibo il mignotone dove ce l'hai eccola un'altra volta civiltà delle torri beh ma allora c'è poca fantasia big mac ah perché anche prima la big mac mi parli sì no dici vabbè io so io l'idea di popola subito quella del ferro non è stata male però se c'è molto poco cibo cazzo come si copre con ste torri da merda niente andamoli profeta più veloce possibile perché giordi mi hai messo ah metto a fare il profeta dai ti preoccupo ti do ti do il loro dammi il loro però io tra un po' mando ma sta piacendo un po' ci piacevo mando una cosa guardi questo questo è scopertissimo il verde quindi se lo attaccavo insieme io ho una buona quantità di unità è un peccato secondo me che la gente non su empire earth sembra chiusa solo la chat testuale ma invece sarebbe molto di più la chat vocale certo anche tra quelli che si conoscono bene fanno tutto il chat testuale ma voglio ma che mossa è diglielo allora giordi ci sta il cibo ce l'ha proprio dietro ma manca direttamente il cibo ok tiriamo giusto a torre cura 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 no no veramente a posto a posto ok i cittadini sono andati ma questa te la shot io la rompio con i massaglieri che cosa tirai da giù ah anche questo mi mandava tutti i cittadini ci abbiamo un cazzo a posto a posto a posto a posto a posto ha popolato a posto ha popolato che tonto ha popolato quella con il cibo utile guarda come potenziale clave necessariamente a mangiare più gente al cibo giordi ci stanno un po' dei tuoi cittadini sul cibo migliorato c'è solo quello me lo lasci please si io fa un giro da quello lì sopra io assolutamente fa un profeta così pochi soldati vabbè questo questo frego non c'è nessuno il cibo ah è lovebuddy ma no voglio provare a prendere quella fronciola che sia che sia come si vuole cittadini E che piena di torri sto stronzo Adesso esageri Sì però qua Giordi c'era una cosa Vedi? Questa zona è naturalmente scoperta Stacca bastanallo finché potremo Stacca subito bastanallo questo No da uscire in questa situazione Queste le fa brutti ma sti cazzo Allora Sbogiamoci a chiuderla giù Tu di qui c'hai quattro mazze Top grazie non l'avevo dimenticato Niente io ci devo mandare anche quest'altra Va bene Comunque ste partite banalissime Eh aspetta Giordani mi lempo di legno o faccio il tempio? Dopo l'oro ce l'ho Ok Ok Mazzi mille Vediamo se c'è un altro porto ma non credo Dai sei giù il porto? Vabbè figlio ma perchè ti saranno andando lì qua? Buoh fastidio Ok 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 c'è clavin c'era senza velocità madonna ah gli fanno un'altra spolverata eh ma anche io qua ho pensato che sto territorio adesso mi diverto un po' eccolo vedi che tonto cioè io non ci vorrei giurare ma ho visto una mazza che stava a tirare giù una delle sue mazze che stava a tirare giù che stava a tirare giù una pevora pure Antki c'è proprio un abbone poi si è arfatto non arfatto manco il porto sto porro di sgraziato eh non c'è legno per me porto costo vabbè sì appena c'è un po' più le mazze poi c'è un po' più le mazze in situa cazzo c'è un sacco di gente al cibo e comunque il cibo non megaloppa un'altra volta senza tempio nooo è arrivato è arrivato ha ammazzato tutti gli hippopotami porco tre oh io faccio però non te manca la caccia eh ah io non ci vuole far provare ma c'hai i cavalli di qui vicino al campamento eh quelli non lo lasciate in tempo fatti c'ho pure esterminare lì tutti semmai c'hai anche gli hippopotami in fondo eh infatti lo vieno vabbè li ha mandati si manda a stiluare questo senti attaccamo ma si dai tiramo giù ha una spazzolata ti provi a tirare vabbè si spazzolamo e poi tiramo giù anzi tu spazzia e ti ho giù prego diocardo se ce l'ha ce l'ha d'utore il suo coglione ah già si si ho visto ah senti io ho proprio da destra si si fa la parola questo ce l'ha il tempio l'ho visto cioè questo sta proprio un'altra volta ma mi è zion se è banale vabbè è molto l'attacco dai rispetto a mostrare qualcosa niente manca 13 tempo senti fa un altro profeta eh si infatti adesso off a loro che usano l'esercito per buttargli giù gli eventuali templi e via si 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 ah però il secondo profeta non lo potevo fare iiii mi ha sotturato le fecce con quella proletta il secondo profeta non lo potevo fare vabbè adesso tra un po' non ci vuol ci perché non ci vuol ci abbastanza cibo ok c'è 10 euro no nevermind nevermind ormai proprio siamo internazionali che sega vedi ok ok profeta vai tra pochi minuti mando il terremoto la merda eh non c'ha ma lui non c'ha manco coso boh manco il tempio non l'ho visto vai mando il primo terremoto mando che lo metto qua aspetta spero solo che l'esercito per protegga bene il profeta a posto dai dopo smazzolamo Giorda arriva là e smazzolamo si si madonna ma quanto quanto è cambiato il modo di giocare rispetto forca miseria ok st'ora è caduta st'ora è caduta st'ora è caduta ritiro giù un posto vabbè anche questo ma muore ma muore ridico ma voglia affatto c'è carico il profeta c'è uno a 25 uno a entrambi a 25 giocci stiamo a profeta carico entrambi faccio che mando il terremoto simultaneo coraggio coraggio mo se cos'eranno dai io posso anche andare alla seconda era tra poco come gg no non ho ricevuto a quello che sei andato ancora sta guardando la partita ah si è andato quindi il verde lasciamo un po' verde eh si ormai si pigmac vuole fare le cose che lui mi vuole stare va bene va bene va bene allora se vado a quell'altro e poi se la seconda era probabilità sorpresa è l'ultimo era va bene dai c'è la carico faccio un'escursione rapida si si c'è la carico no non tolvelo subito e ce l'ho le dico subito no non ce l'ha posto quindi mando ah è il profeta legge il profeta adio capire il profeta io mando l'altro a mando l'altro a fare in cursiglio che tragedia che tragedia che tragedia che tragedia è una pena di ocara che tragedia va bene gg se ci vediamo a queste partite sappallosi si troppo scherzi ok la potenza quei gente mi sento qualcosa di vero ho sto io ancora si io amo big mac c'è un'altra volta hip hop vabbè dai ora mi ho forse non ti ho dovuto vedere i miei farchi La VMAG fa semplice il territorio ma puraccio gli ha fama ai spi- ah NK nega mio caro No ho uscita Ah ok Ha capito che siamo un Team Dream Team Go go go, ah beh è posto Giordano, metti Team 1 Giordano, tu metti Team 1 Ah no la VMAG sarà Team 2 Beh no Team... Metti Team 2 Cioè sta... no Ah, ma no Perchè gente esce, non capisco qual è Eh, può darsi che stavano a fa' la swap No, eh, non avrei belietto Famo Mediterranea? Famo mediterranea? Mi farei in Mediterranea Però ziii, io a sto punto sono main, non ci vuoi fare pocket però Schio any, faccio any, can you be in pocket Ah, medit Famo mediterranea? Limite 3000 No, se no si faccio la civiltà quella quella Abbiamo fatto una civiltà per pocket se non sbaglio, la posso farla anch'io Lanceporti Io l'avevo chiamata Lanceporti L'avevate... però si l'avevi fatta No, c'è un altro nome, questo non mi ricordo il nome ma c'è stato Join here, don't play with noobs C'è ragione Ma chi ti ha detto? Babel No, perchè di chi è pieno, tra I love Big Mac e... Anche Google, voi ragazzi No, Google è freddo Che fai giordi scioglie? Io faccio giordi scioglie ovviamente Quanto è bella le cia porte sturate Madonna, c'è paragone proprio Allora, ci siamo? Allora, ci siamo? Che te 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 me metto? Allora, io assolutamente ho trovato la civiltà per questo Lanci e civiltà, l'ho scritta anche male, vabbè Lanci e civiltà c'è stai Va bene, dai, quindi che cominciano Questo Mi manca... eccolo Tuoi fai oltre un'altra cosa anche su per difendere? Che? L'abbè la caserma là fuori, che dopo un po' io arriva la terra Un corto dopo Qual è il tuo amico preferito, Giovanna? ma penso penso il cane no 9 il gioco la sua piazza sul gioco penso per me sono gli struzzi struzzi che si fanno facciamoci da anche lì a fanno un botte e che ci sono gli animali che fanno pena come l'inferno ma forse i giudici forse le pecore le pecore ma peggio lefanti sono anche duri da ammazzare vabbè deve andare poca praticamente eh 1717 si è difeso bene cazzo 1717 si è difeso molto bene mi sento vabbè sono tutti al cibo e speriamo di droppare rapidamente ciò mette anche la gente a fa vabbè aspetta mettiamo gente a fa legno prima di passare davvero io io e io e 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 ascolta perro io ho fatto di qui la base ma mi servirà il tuo aiuto si si mi arrivo non ci arrivi di forte ma ciò mi guarda ciò stop e passa la seconda in pochissimi secondi ciò mi mancano 100 al cibo però ciò tantissime 100 al cibo comunque ciò almeno 6-12 ciò c'è una persona dai cazzo 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 sta strurando? ah andavamo posti è già è già tra 3, 2, 1 si passa vai adesso la gente al legno c'era vuoi vi alzarono anche al legno ti al legno è andato mamma ne ho fatto manco una torre sicuramente non è male che posto togli vuoi due tu vuoi che devi andare manculati Oh, manculato Ti ha scopato? Sì Hai visto i due micro secondi? Sto fanno tenendo i lanciati subito Eh, Mild è forte, Mild è veramente forte Mild è forte Ma perché si tratta da seconda? Mild è un nabbo Cioè la wing sta andando a seconda Che sega Oh, arrivano i lanciati Dai cazzo, dai cazzo, corri 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 Arrivano i lanciati, sto fanno una fracca Mi sta male Cazzo, mi sta attaccando sotto la torre Spostando i lanciati, sì Corri 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 Sto arrivando i primi Cazzo, mi sta a buttare giù la van post Mi ha buttato giù la van post Fortissimo, Mild Veramente fortissimo Mi ha battuto a parità di clave perché l'ha gestita meglio Non c'è ferro per potenziali Dai, vieni dietro, c'ha tutti i lanciati, insa potenziati E' che non tocca a perdere quelle luminiere No, dammi, dammi, supporti i lanciati, supporti i lanciati Sì, sì, ci sono, io so Ma tu andavo a dove ammazzare i pericoli Dai, insa potenziati, capito? Sì, cazzo Mamma mia, ma come... Eh, c'è lanciare pure lui Lui, lui Ma guarda quanti ce n'ha GG No, non GG, non... GG, spero Ci ho comattato tutto, dai Dai, se no qui non ce la può iniziare di qua Tu ce li ha potenziati anche in velocità? No, non ce la più incazza potenziata Io mi aiuto, me le stupro, me le stupro, me le stupro Mamma mia Che sega No, giù dai, prendiamo subito la porta tra Abbiamo persi Ho perso un cebolancene Ho perso tutti Va bene, purtroppo stai genso con il ser Io cazzo una merda Che sega Ok, questo arriva la C, eh È simpo a giocare Arrivano la C È simpo Sì, sì, stanno venendo Mamma mia, sono mezzo a merda Sono mezzo a merda Ma sul serio? Sono mezzo a merda È il momento peggiore per fargli arriva questo Eh, però io non so più come difendere me Me ne ha massacrati praticamente Eh, ma questi ne attaccano, capito? Cioè, Go-Go e quell'altro stanno a fare le fave Eh, io non ce l'ho, ho 4-4 lancerizzi Ah, sono attaccato a te, zio Sono attaccato a te Eh, sì, ma è finita Porca droga C'è, Go-Go e la merda Infatti, c'è la Junikon, non si può giocare con questi Non si può giocare Vabbè, sono tarrendo subito, dai Talas, Talos Talas Talas E noi potete mancare No, non ci vediamo, spesso, spesso Come sul via Dovai L'ho perso? Cazzo l'ho perso Bene Bene Ci abbiamo due ferro Sì Sì Difendiamo sto cosa Questa restrizione lì E che non c'è niente alla rifende Cioè non c'è più niente Ah sta l'ho perso Ah vieni da direttamente Vabbè Ti starai contro l'unità Ti vieni Eh vabbè Pazienza Vabbè ti ammazzito Ammazzito Ah Ah porca Quanti cazzo ci nazi Quanti cazzo ci nazi Oh mio Salve Miel Dio ci salve Ah vabbè Massacro in world Massacro in world Sì 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 Ma quanto chi vanno veloci C'ha già potenzialità al massimo I lancieri suoi Vabbè che mi fa fancazzo Questo ci ha attaccato Che sega Cos'è dura Questi handicap in giro Veramente durosti handicap in giro Non mi ha anche sperato niente Boh Che spreco le tempo Ma guarda Non c'ha manco le clave potenziate Che cazzo sta a fa E ne l'hanno manca attaccato Ah si No no non l'ho mai attaccato Non merda lui È uno scherzone Dai raga svegliamo Se mi ha fatto quell'attacco E' un momento la partita Ti giuro Ma forse hanno tante unità No è che invece Le fa quella van posto del cazzo E devo andare dritto dritto Ai villaggi Eh per me farò un posto giro È stata una Sprago del ricordo Ho fatto la yukon E invece Non vale in cazzo Quella tecnica Proprio zero Su un campo Un quelmo aperto Non vale in niente Fortuna Le ho messe discretamente Nooo Noo 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 Che c'è la vendiamo Lo che vuoi fare stronti Su un ottimo Su un ottimo ok sto guadagnolo ha mosso l'esercito zitti ce l'aveva potenzializzata il 10 tra l'altro il pc non va bene dai questo è un video che potremmo stuprare tutti famo così aspetta dai idiota cosa famo così perchè io non ho niente da fare ho perso tutti i cittadini io non so manco a parte non ce l'ho allora scuola andiamo good game va bene va bene gg vogliamo fare un 2 4 vs 2 un 4 vs 2 lo scrivemo col vs 2 come diventiamo no no mi da fastidio quando lo fanno quindi non lo faccio nemmeno io non vabbè il design è vero lasciamo divertire gli altri due vai troviamo una partita mondepro però perchè lo sento a gusto che schifo poi è andato io è andato benino eh rispetto al celeste e all'arancione è che il cosa ha fatto loro c'erano il pocket che faceva solo esclusivamente pocket e si e c'è milde era più forte con l'esercito cioè parità di clave ma ha gonfiato le botte senti c'è bisogna assolutamente questa mod che c'è da che c'è dai cosi a drex mod perchè sennò è inutile c'è un po' giochi con le persone che conosci ma fa un'altra partita e famo white in vita non lo so anche questa albazi dai mai qualcuno viene fuori ma infatti i pub è il maschritto prima delle partite non giocava con questi scarzi effettivamente no go 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 si rivela uno scarso assoluto proprio centro di recupero centro di recupero di fama che bello ne fai un'altra? come? che bello ho visto un amico ho visto una foto che sta praticamente a addestrare un addestrare un gufo che cosa hai fatto Gio? ho fatto una partita ho fatto una partita ho fatto una partita pop 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 è forte ma infatti la colpa è del go 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 perchè i love being mac alla fine stava in mezzo stava in fat pocket anche se vabbè ha fatto le clave ha fatto le spire ma che cazzo ha fatto un po' il pop della situazione allora tu rispetto a chi era l'altra eracles no più o meno stavate allo stesso livello no tu sei partito un pochino dopo a cresce con l'esercito lui ha fatto l'esercito prima di te eh ma infatti mi ho perso lì probabilmente è che non capisco come cazzo ha fatto cioè qual è il maestro migliore per passare su via seconda era cioè non conviene più solo cibo e passare conviene fare altre cose conviene tipo io mi sono messo a fare il cibo un po' di legno e ho passato un pochino dopo allora io vedo vedo che lui tre quattro cittadini li ha fatti prima di te ok quindi ha fatto un po' cittadini tu ci stai sulle statistiche cioè stai no sono uscito più o meno che ti dico toccherebbe vedere come hanno raccolto due risorse nel tempo ma non si capisce comunque ha fatto l'esercito prima e quando tu l'hai fatto e sei arrivato al massimo lui ce ne aveva quasi il doppio quindi vabbè eh ma infatti ho perso l'A però sì io non ti ho detto pochetto del cioè dovrai vedere un attimo qualcuno che lo fa vabbè chi fa ne fai una? falla tu però perché almeno ti inviti se ti conoscono tu quando fai il pocket che fai scusa? come parte? io solo capisco se la seconda era poi vabbè dopo da là ci so ci so fare è una partita normale eh in teoria te ne serve cioè io faccio quattro cittadini di solito perché due le metto a fare i torri mando tutti al cibo e subito due tre le mando al legno ora che è passoriera mentre passoriera può spendere un po' di legno però mi sa che loro fanno diverso cioè fanno tutto il cibo passano l'era e poi mandano quelli del cibo gli mandano a legna e penso fanno così a sto punto eh te te consiglio un video perché io come se fa pocket penso buono chi lo fa? so come si gioca sulle isole che però mi assomiglia al pocket per quello è tutto incentrato sul legno sulle barche quindi forse manco la civiltà nella manco al top è un genio montare pop è forte come ho detto pop è forte mild è forte potremmo fare anche noi in due contro due poi io vario via anch'io vado a cena sono solo profumo sono italiana eh continentale mi trovo vabbè no 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 team 1 ho il pietro poi devastato ho ho una vescica gigantesca cazzo si alla fine dell'acqua alla fine del sangue dico tristezza manchi solo tu come ready eh cazzo stavo guardando forse tu fai se back non so sicuro che ce la faremo vabbè ma ste cazze già tanto tu sei forte io farò il mio insomma io posso consigliarmi un amatore beh scherzi ma che provi c'è troppa strada ancora allora la prima l'ho giocata benino anche se proprio scarsi infatti non si può dire perchè veramente scarsi non mi hanno manco messa però clave spinte purtroppo ormai sono un po' discreto se ho clave spinte perchè è l'unica che fa questa ma dovrebbe il territorio riccio assi nooo cazzo e ho perso un po' di tempo vabbè faremo un segnante definitivo e sto messo de merda col ferro va bene ah però noi stiamo mandando dei cani porca bro perchè si è messo in mea da col ferro? perchè c'era un sacco lontani E anche io non so messo troppo al top col ferro però Porca miseria Ok Ci hanno scopato già Che ansia comunque Giova questa gente Va bene Gli fanno attacco Ma scuola un attimo Vediamo un po' di scappare fuori Ecco il Mildo bello 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 Giova già volato Che è una massa Ah ragazzi ho già le cose Io che ero Cioè per sicuramente E io ne ho mozzato nessuno Vaffanculo Mamma mia Come vanno Vabbè ma sto E' un attacco E' un attacco che mi fa il culo Eh c'è il perro che sta registrando Sto registrando io Chi vuole fare il cicciolo Vuole vedere Per fare il guardone Gente che Allora Giordano Mi stanno i occhi Si scopano Vero Non lo so Mi proviamo a entrare da Da mid Ma aspetta il secondo arrivo anch'io Ma volevo potenziare un pochino Le mie mitte No hunt No hunt è tutto lì Che non c'hai lì Ma è impossibile dai Ok Cazzi sui Ma non c'è problema Manco Ma stanzata Stavo scherzando Allora Giordano Tu vai di super Ah cazzi Bene Mi bisogna un spot Io ieri un po' Oh cazzo Quell'altro spot Di cibo Questa partita La addrizziamo Vai io Vai Allegna 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 Vieni anche tu Fiamo un po' Elastico No Vuole andare a seconda Ah si Evidentemente E' che ne la butterò giù mai No La buttai giù La torre No Non perde l'esercito E' l'ho perso Come GG Siamo seri Pensava Che non siamo buoni a fare clave Favo come GG però Per me non è pencazza finita La farei in casa Abbassa la guardia No non faccio Posto E' finito Oh è stata attaccata A te Già No Ah il figlio fa il culo Se no c'è il backup Di opera Occhio protetto Mi sta mettendo la torre là Porca Dove Vedi qui dici T'ho messo la torre Vedi Sul l'orola vicino a te Ah vabbè Sì Senti tocca Entrata da quell'altro Però a sto punto Da chi entriamo Entriamo Eh da Da di qui Aspetta Eh per forza Vedi che sto dentro Mi fa il culo adesso Vuoi che te copro io Può attacchiamo tutti No magari coprime dai Te lo copio Noo porta troia Va bene dai C'è un bel set Se sta veni dietro la giordata Visto Ok Vabbè ti lascio un po' di unità coprita Allora faccio il tempio Sì sì mi ha visto Mi ha visto Faccio il tempio già Poi se mi ha visto Va bene Mi fa il tempio che mi sta manco Preparate che viene da me Vai Ti mando ottimità Potenziale attacco Ah cazzo Che cazzo manca? Ah si passa Ah si passa Ah t'ho fissato Ah si passa Eh come si passa Eh come si passa ragazzuolo Eh come si passa Oh Gio ma da che mi mandereste il Da che mi mandereste Gioll Aspetta Eh come te li massacro Eh come te li massacro Viene da me Viene da me Viene da me Sì 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 Non è un problema Non sti bene Ma le potenze Adesso Qua Devo piastratamente Sto cosa Che seca Vabbè attaccamolo noi allora Non lo fanno girare Sì esatto Ok ok che paura Niente 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 Scusa Non era un cazzo Mildo si è già Cioè l'aveva uscito Non so se l'ha reso Proprio Eh si proprio Si è andato il tutto Che coglia Ah il mio aperto Si passa anche qua Goro Guarda il territorio Spettacolare C'ha stato Eh si Ma veramente Si passa Per di lì Si 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 Ma non l'avrei mai detto Però capito Lui ha preso il territorio Non ci ha fatto un cazzo L'ha solo L'ha solo Cosato Vabbè Vabbè Io vorrei essere Lo stupro Dai 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 Io non ce l'ho Unità 10 Eh io ancora ce l'ho No a 4 Ah è arrivato È arrivato È arrivato No chi è arrivato Eh A me sta stupendo All'iterci Va fan cool Vabbè però Un po' Io ne ho prese Un po' Le sto occupa Dove ce l'hai? 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 Queste ultime unità Giorda a giorda Devi darmi una mano Perché Ecco l'ecco Faccio lo stesso passaggino No esatto Non è che devi Niente cosa proprio Devi Prova ad essere pronto Perché questo Da un momento all'altro C'è portami Prova a mannalli Versa le tere Aspettate là Aspettate là Che tanto usci in seguito Penso di essere un vantaggio Eh vorresti eh Ma ha massacrato L'esercito Sì Non è possibile Vabbè dai Adesso Per tutta la gente Che c'aveva Adesso Giorda Tu li attacchi da su Ti li attacco da sopra Ne vedrai Ma io li attacco Sempre da di lì Ah io passo da sopra Dentro il blu Per darò un po' Dei secondi Sì va bene Va bene Mi fanno un sacco Le pressioni Gli fanno Ne manca il ferro Oh se mi mandi 70 Cosa fa il profeta De oro La fai Sì che faccio il profeta No Che piagnone Ah però non c'è Beh però se non c'era più un cittadino Non c'era più un cittadino Non c'era più una clava Eh già Eh già Sì però il problema Che Mild ha fatto GG Quando c'è un sacco di cittadini Ancora c'è Ma sì Ma è sta gente Guarda invece ce l'aveva l'anto C'aveva gli Ippopotami di lì dietro Vabbè ma Vabbè non come i miei Vabbè non rispetto a te Hai visto quanto ce ne aveva C'hai dicevo Non lo so Però tu non ce l'hai in cazzo No ma tu non ce l'hai in cazzo No 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 L'altro ce l'eva Ma non mi ha fatto Se la mente Questa è durata 20 minuti Cioè ma che è Oh noi toccherebbe veramente Se c'è un torneo Un 2 con il 2 tocca fallo Vabbè cazzamolo noi Ma cazzamolo noi Ma cazzamolo te Giordà Diggielo Ah vabbè